Noi ci conosciamo. No. No, ma qui tutti la conoscono. È lo scrittore famoso che vive a Gus Cov. Sì. Ora devo andare. Ma non dica a nessuno che ho fumato. Oh, ok. Spero di vederla ancora qualche volta. Anch'io. Qual è il suo nome? Nola. Come ha detto? Nola. Nola? Nola.